Duro attacco dei sindaci dell'Alta Valle e del Comitato a Difesa della Sanità di Montagna contro il direttore generale di ASST Valtellina e Altolario, Tommaso Saporito. Siamo preoccupati per la situazione all'ospedale Morelli. L'azienda non sta attendendo agli indirizzi che l'assessore regionale Gallera e il presidente Fontana ci hanno comunicato circa l'immediato trasferimento a sondalo delle unità chirurgiche e del servizio di urgenza e emergenza, dichiarano primi cittadini e comitato sulla base di notizie raccolte, definite attendibili e precise. La volontà della regione di ripristinare nel presidio la situazione pre-covid non ha ancora trovato riscontro, riporta la nota. Non ne capiamo le ragioni. O è mancata la comunicazione o i vertici di via Stelvio agiscono in palese contrasto con le indicazioni della politica. Non solo non si vede un ritorno quantomeno graduale alla situazione pre-emergenza, ma, prosegue la nota, lo scenario è addirittura peggiorato. Il direttore di ASST sta mettendo in atto una serie di gravi azioni a depotenziamento del Morelli, preannunciata richiesta formale di chiarimento sul suo operato. Nel caso la situazione perduri, concludono sindaci e comitato, ci riserviamo di attuare tutte le azioni volte a garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini.